Ricevete lo Spirito Santo. Quello stesso Spirito che ha generato Gesù nel grembo di Maria e l'ha fatto risorgere dai morti vive dentro di noi. Gesù ci ha donato lo Spirito Santo che è l'amore di Dio. In questo modo ha seminato dentro di noi la capacità di amare come ama Dio. Ogni volta che fai fatica ad amare qualcuno scendi nel profondo del tuo cuore e la voce dello Spirito Santo che parla dentro di te ti insegnerà ad amare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.